ciao buongiorno a tutti cosa facciamo oggi vabbè siamo alla vigilia di natale babbo natale passato da voi arriva deve scendere dal camino sta preparando il motore non so cosa facciamo oggi oggi volevo farvi vedere una parte di quella che sarà la mia futura attrezzatura grandi spese in atto a parte gli scherzi quello che io utilizzavo fino adesso per chiamata in termine tecnico asta per fare i video che comunque lo utilizzavo per fare i selfie è un marchi ingegno comprato a pochi soldi dove praticamente lo aprivo ci mettevo il telefono era allungabile faceva da mettevo il telefono qua potevo tenerlo questo portava qualsiasi cosa telecomandino che comunque vabbè per quello che serviva faceva anche il suo sporco utilizzo perché comunque con 7 euro sono riuscito a comprare un treppiede che potete anche appoggiare nel piano ma mi direte voi e tu spendi 7 euro per attaccare un un telefono un iphone a un qualcosa del genere si avete ragione tutte le volte che lo appoggiavo speravo che non venisse evento tutte le volte che lo utilizzavo mi è sempre andata bene ma ho fatto il grande salto ho fatto il grande passo sono passato a tada vediamolo un unboxing oramai si tra youtuber famosi si usa definire così l'unboxing vabbè vediamo cosa ho comprato amazon è arrivato ieri ma ha portato due cosine e adesso ve le faccio vedere anche a voi vediamo la prima cosa premesso non son pagato per far pubblicità ma mi fa piacere farvele vedere perché lo trovate utili e comunque comode dall'ambito della fotografia una marca conosciuta per i piedi o comunque anche per i video è manfrotto manfrotto ha tirato fuori questo oggettino qua bello piccolino tascabile poi vabbè io ho già aperto che permette di fare da supporto per il cellulare perché è estensibile ci si mette il telefono qui si blocca e tiene molto più saldamente il cellulare ma la peculiarità che che vabbè che lo distingue la resistenza in materiali un po plasticoso ma per carità ho già fatto delle prove e mi trovo benissimo è che ha due possibilità di attacchi quindi potremmo tenere sia il telefono in orizzontale quindi per fare video che in verticale per fare foto l'altra cosa che ha in più è la possibilità in questo scasso qua di poter attaccare la luce che manfrotto ha creato a led per poterla mettere come luce fissa quindi diciamo che per l'alto livello dei video che vi porterò su questo canale abbiamo già un pezzo manfrotto che per carità fa il suo sporco lavoro con pochi euro vi lascio poi qui sotto il link di amazon e voi mi direte bravo paolo questo poi mi direte e questo dove lo mettiamo in piedi non ci sta messo così no messo così no e quindi tornate qua ho comprato un'altra cosa se no abbiamo fatto la spesa metà joby facciamo molto bello sì diciamo che mi ha letteralmente stupito perché ha varie possibilità di come può essere messo su varie superfici può essere attaccato a un tubo una ringhiera io ho preso il gorilla pod 500 esistono anche altri versioni andiamola ad aprire vediamo com'è va bene in realtà io l'ho già aperto e vediamo praticamente è questo che ha la possibilità di essere aperto e quindi appoggiato su una superficie piana oppure possiamo avere che ne so prendiamo la custodia degli occhiali e come potete vedere lo appoggiamo e riusciamo a regolare le gambe perché queste gambe sono pieghevoli si possono raddrizzare possono possiamo metterla che ne so attorno al braccio si possono allargare e anche questo con una spesa minima diciamo che è portatile utile flessibili e anche questo ha una testa che può essere snodata girata a 360 gradi e noi andremo poi ad attaccare assieme questi due pezzi lo potremmo utilizzare come tipo asta per i selfie lo potremmo utilizzare per attaccare qualsiasi cosa bene problema è finito sono diventato una youtuber no assolutamente diciamo solo che mi sentivo più sicuro anche ad attaccare un iphone 12 o comunque lasciarlo appoggiato per terra per il vento perché comunque volendo posso aprirlo e rimane molto più in piano e anche questo con poca spesa diciamo che non ho pianto tanto per comprarlo ma vedremo adesso in questi giorni di provarlo meglio e poi se volete vi lascerò delle delucidazioni o quesiti vi lascio anche di questo del jobby di gorilla il link in descrizione e niente tanti saluti ci vediamo in questi giorni ci vediamo buone feste tanti saluti a tutti mi raccomando mangiate potco e bere fate voi ciao a tutti sono di nuovo qua ah dimenticavo una cosa e alcuni di voi sanno che facevo fotografia video e il bello di questo giggino qua è che se voi avete un treppiede qualsiasi poi per carità il mio è un manfrotto anche lui però la cosa bella è che su qualsiasi cavalletto riuscite praticamente ad attaccarvi quindi il pezzo lo attaccate qua e io riesco a no da quest'altra parte riesco comunque ad attaccarmi su qualsiasi cavalletto ve l'ho detto così giusto perché me lo sono dimenticato l'ho detto perché questo attacco qua questa vite qua questo passo qua femmina questo maschio è praticamente un passo universale che viene utilizzato anche per le reflex per sotto al corpo hanno praticamente questo buco con questa filettatura fatta come questa qua uguale adesso vi saluto non vi dico più nulla per oggi ci vediamo alla prossima ciao a tutti e buona giornata resta collegato e se volete iscrivetevi al canale accendete la campanellina per essere aggiornati sugli altri nuovi video che arriveranno ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti